Buonasera a tutti, io veramente non volevo assolutamente intervenire per nonno, dopo un bellissimo programma di questa portata, il sindaco dà soltanto, come dire, più che un piacere un disturbo, perché, si prego, prego, comunque l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di offrire dei momenti di amicizia, dei momenti di solidarietà, di vicinanza e di sviluppare il senso dell'appartenenza, non abbiamo altri obiettivi se non quello di offrirvi dei momenti di serenità, quindi a nome dell'amministrazione comunale ringrazio intanto gli artisti per la magnifica esibizione. E poi ringrazio tutti gli intervenuti per averci onorato con la vostra presenza e averci consentito di trascorrere assieme una bella serata. Grazie e buonasera a tutti. Io volevo ringraziare tutti e poi chiedere se vi è piaciuto, è piaciuto? Allora se vi è piaciuto chiediamo in bis almeno un'altra canzone ai due maestri. Ho sentito in un solo momento di ringraziare il vice sindaco Stefano Guastaligname che ha fortemente voluto questa serata ma non ha incontrato assolutamente nella giunta e nell'amministrazione comunale nessun, come dire, non ha dovuto fare nessuna forzatura. Abbiamo capito subito quello che ci offriva e lo ringrazio anche a nuova di tutta l'amministrazione.